Sono in corso le indagini sulla morte di uno studente di 28 anni, originario di Ceglie e Messa Apica, che si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla Tempia. Arma legalmente denunciata per scopi sportivi, come è stato accertato. La macabra scoperta nell'appartamento di Lecce, che il giovane condivideva con un'altra studentessa, è stata fatta dai genitori che non riuscivano a contattare il figlio. La porta della camera dello studente era chiusa a chiave dall'interno, elemento che avvalla l'ipotesi del suicidio, già avanzata in un primo momento dagli investigatori. La pista del suicidio sembra essere quella più accreditata, poiché non sarebbero state trovate tracce di altre persone estranee nella camera da letto dell'appartamento. Il pubblico ministero della procura del capologo Salentino, Roberta Licci, ha intanto aperto un fascicolo per instigazione al suicidio, disponendo l'autopsia. Gli inquirenti stanno ascoltando persone vicine allo studente per chiarire se vi siano particolari della sua vita, di natura sentimentale o legata agli studi universitari, che abbiano potuto spingere il ragazzo a suicidarsi. Il giovane avrebbe dovuto discutere la tesi di laurea tra un mese.